Buona la prima per il punto nascita di Sulmona che lo scorso 5 febbraio ha avviato il ciclo di conferenze dedicate alla popolazione, in particolare agli studenti delle scuole superiori della città, finalizzato all'educazione delle nuove generazioni sui temi di fertilità e salute, sessualità cosciente, apparati produttivi, contraccezione, malattie sessualmente trasmesse, questi temi trattati dal dottor Gianluca Di Luigi, medico chirurgo del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Sulmona. Gli incontri rientrano nel piano nazionale della fertilità del ministro Lorenzin, spiegano dal reparto sulmonese. Lo scopo è quello di collegare la fertilità al centro delle politiche sanitarie ed educative del territorio, con la consapevolezza che la salute riproduttiva è alla base del benessere fisico, psichico e relazionale dei cittadini. È infatti dimostrato in campo nazionale come il calo di natalità deriva dall'inalzamento dell'infertilità che si manifesta la maggior parte delle volte per una mancata di agnosi. Con uno stile di vita più adeguato, la stessa infertilità si riduce per una coppia su quattro. All'incontro hanno partecipato con interesse gli studenti del liceo sociosanitario, della facoltà di scienza infermieristica e gli operatori sociosanitari. Il prossimo incontro si terrà il 18 marzo alle ore 17 nella comunità montana Peligna. Sarà il nutrizionista Antonio Pacella a parlare di alimentazione come tutela della fertilità e della gravidanza. Il punto nascita Peligno si colloca dunque al centro del territorio. Quella che si è aperta potrebbe rappresentare una nuova fase per un'inversione di tendenza. In attesa dei nuovi locali infatti a breve aumenteranno i servizi in sala parto dove sarà praticata la musicoterapia, la cromoterapia e la romaterapia. Il reparto sta battendo anche i tempi di attesa anticipando le visite prenotate per giugno 2016 e che il punto nascita debba avere lunga vita lo ha fatto capire anche la Cicogna che ha portato proprio a Sulmona il primo nato della ASL 1.